A livello personale è un trequartista, ma posso tranquillamente fare anche il mediano 2 per l'opinienza, non è un problema per me. Il mister sa che posso fare più ruoli e sono a sua disposizione ovviamente, lui mi fa le scelte, io sono a sua completa disposizione. Però la tua preferenza è... Sì, vabbè, ma quando ogni giocatore ha la sua preferenza, io la mia, poi posso essere un giocatore per fortuna che può fare più ruoli, anche esperma, eccetera, quindi sono a sua completa disposizione, lui lo sapete. Mi fa a disposizione che non prende le bottiglie. Oggi è una cordice quasi da Serie C, ma che differenza c'è a stare così in fretta? No, oggi la cordice era molto bella, secondo me, ho visto partite di Serie C che non erano più. Da Serie C, allora, volevo dire quello. Sì, sì, però molto. Hai percepito anche la differenza? Beh, la differenza c'è di sicuro, ma secondo me è più a livello di ritmo. Ci sono molto più pause, molto più tempo da recuperare, il gioco magari è molto più letto, però a livello di contorno, oggi secondo me è stata come una partita di sci, tranquillamente. Mentre dal punto di vista tecnico ovviamente ci sono dei giocatori lì che, di là, che possono risolvere con un lancio, un giocatore, un tiro. Se il mister ha detto che manca qualche cosa, cioè che la squadra ha, soprattutto nel primo tempo, impostato per vincere questa partita. Quindi sentite che vi manca qualcosa, siete più, come dire, appagati da un pareggio che comunque muove la classifica o un pochino rammaricati dall'epilato? Sì, assolutamente sicuro, sapevamo che era importante vincere, secondo me abbiamo fatto di tutto per vincere. Ci è mancato il gol, che oggi era difficile trovarlo col gioco, come abbiamo fatto magari settimana scorsa, avremmo voluto trovare, secondo me, in altre occasioni, magari su pali inattive o calcinavo, le condizioni, perché giocando oggi era molto più difficile, lo sapevamo, dovevamo essere più bravi sulle pali inattive. Quindi sì, ci è mancato e sappiamo che dovevamo vincere. Sarebbe stato importante sia per la classifica che per la piazza, ovviamente.